Oggi vorrei parlarvi di Luis de Vol, in realtà questo non era il suo nome di nascita, infatti aveva un nome tedesco, in quanto lui era austriaco di origine ed era vissuto in Germania fino al 1933, quando considerato non ariano dai nazisti per la sua ascendenza materna, infatti aveva una madre ebrea, fu tolto il permesso di lavoro, era Ludwig von Vol. All'età di 33 anni quindi, perché è nato per me all'inizio del secolo del novecento, lasciò la Germania per l'Inghilterra, dove tradusse appunto il suo nome in Luis de Vol. Ha scritto molti romanzi storici pubblicati in Italia solo recentemente dalla casa editrice Rizzoli, ad esempio La città di Dio sulla storia di San Benedetto, l'albero della vita su Sant'Erena, Costantino il Grande e Costanzo, l'ultimo crociato su Don Giovanni d'Austria, il comandante che guidò le truppe cristiane a Lepanto, la liberazione del gigante su Federico II e Sant'Omaso d'Aquino, la mia natura e il fuoco su Santa Caterina. Il romanzo di cui vorrei oggi parlarvi, l'ultimo romanzo che ho letto è Attila di Luis de Vol, Attila la tempesta dell'Oriente, ecco questa copertina di questo libro per le edizioni Rizzoli. In questo libro si parla di uomini e non uomini, diciamo. Nel senso che il rapporto fra i barbari, gli unni quindi, e l'impero romano si gioca sulla autorevolezza che è ormai il declino sicuramente, quella dell'impero romano. Sono gli ultimi decenni di vita dell'impero romano d'Occidente e pure in questa fase di declino emergono due uomini valorizzati appunto per le loro doti in una fase così critica e sono il generale Ezio e l'arciprete Leone che poi diventerà Papa Leone Magno. Dall'altra l'altro uomo, quindi l'altro grande personaggio ammirato in un certo senso in questo romanzo è Etel che poi verrà acclamato come il padre e quindi assumerà il nome di Attila. Etel Attila è un barbaro assassino ma è un uomo, sicuramente lo si capisce da tutte le cose che fa, dai progetti che porta avanti arditamente anche a costo anche di vite umane, ma anche lo stesso Ezio. Sono uomini di guerra ovviamente questi due vite umane sacrificate, progetto che poi riesce a realizzare. Chi era Etel? Etel era nipote del Khan, quindi del gran capo degli unni, Rua, il suo zio quindi Rua era il capo supremo, aveva perso il padre quindi in giovanissima età, da infante ed è fratello di Bleda che però è il primo genito. Quindi Etel è il secondo principe oltre a Bleda e a Bullak, un altro principe che però poi come vedremo sarà ucciso dallo stesso Etel. Gli unni si caratterizzano per una religione pre-cristiana, chiamiamola così, quindi una religione tradizionale rituale animista e su usanze che hanno il loro centro nella guerra sicuramente, nella abilità di stare a cavallo. Gli unni erano bellissimi in questo. e nella condizione femminile sicuramente subalterna a quella degli uomini, infatti Etel ha due mogli, Pilai, gli ha dato il primo figlio che è Elak, che sarà anche il suo successore, e Crou, che all'inizio del romanzo aspetta un bambino, dopo nascerà. Nel romanzo viene chiamato Genghis, su testi storici ha trovato un altro nome, Vengizico. Gli unni hanno dei serbi, delle guardie del corpo, il serbo e la guardia del corpo di Etel si chiama Zigur, e fanno prigionieri. E' il caso, ad esempio, di Onegesio, un greco, che è stato fatto prigioniero, e quindi è diventato serbo, anche lui, di Etel, durante la strage dei Sorasgi, una popolazione barbarica. Lì è stato appunto catturato questo greco, e poi sarà di molto aiuto a Etel, Attila, nel corso della storia. Anche una principessa era stata catturata, la principessa dei Sorasgi, durante la strage. Ecco, lì per esempio si mostra chiaramente l'animo crudele di Etel, Attila, il quale ha sterminato, ad esempio, tutto questo popolo. E poi, come vi dicevo, ha tolto di mezzo i suoi antagonisti principali, che erano il primo genito Bleda e l'altro principe Gullac, con la spada di Puru, un grande antenato. Infatti, lo dice Etel Attila, dice proprio, è Puru che uccide Bleda e Gullac. Durante l'ambasceria di Arderico, re dei Gepidi, e di Valimiro, re degli Ostrogoti, questi re barbari capiscono subito che si trovano di fronte, non a un alleato, dicono loro, ma si rendono conto che non sarà più un alleato, Attila sarà il loro padrone. Infatti, per un breve giro di anni, effettivamente Attila fu, indubbiamente, il capo barbaro più importante che dovette affrontare l'impero romano d'Occidente e d'Oriente. Qua, la decadenza non è solo dell'impero romano d'Occidente, ma anche di quello d'Oriente. Forse quello d'Oriente ha solamente avuto la fortuna di essere maggiormente protetto dalla natura e dalla sorte, e quindi di non essere stato invaso. Ma l'impero d'Occidente, dicevamo, è in una fase di grande declino, nella quale proliferano i funzionari imperiali come Massurio, i Netti, gli imperatori bambini come Valentiniano II, figlio di Galla Placidia, e imperatore, diciamo, a 14 anni. E in questo, dicevo, tanto più singolare che in questo impero d'Occidente, comunque, emergano queste due figure di uomo che sono, appunto, Ezio e Leone. Un ruolo particolare e importante nel romanzo lo svolge Onoria, che è sorella di Valentiniano III, ma che ha molto più piglio di lui. Tant'è vero che la madre, Galla Placidia, quasi quasi non riesce a capire come mai sia lei, diciamo, la femmina, la figlia femminamente dovrebbe essere, caratterialmente parlando, dovrebbe essere lei, il maschio, diciamo, della famiglia. È bella, tra l'altro. Attila Etel, il quale è arrivato, diciamo, a Ravenna, nella corte imperiale, come ostaggio, e quindi è affascinato dalla bellezza di Onoria. E riesce ad avere un rapporto con lei. Onoria, quindi, è un figlio da Etel Attila, figlio che sarà, ovviamente, nascosto. Cioè, questa verità, insomma, di questo figlio indesiderato, almeno a corte, dovrà essere taciuta in tutti i modi, alla fine sarà una verità che trappellerà, grazie a Iride, che è una dama metà romana, metà egiziana, di Onoria, poco fedele, diciamo. E si contrappone, invece, a Ildico, che è una bambinetta franca, dama di Onoria, ma molto, molto più fedele e legata a lei. Dicevamo che Etel viene portato come ostaggio dell'impero romano d'Occidente e qui emerge subito la sua personalità, anche in mezzo a tutti quanti gli altri ostaggi. Tra l'altro fa una brutta fine un Burgundio, un certo Gerbod, che ha lottato con Etel. E poi scopre di essere stato un po' preso in giro Etel, in quanto gli hanno proposto di posare per un pittore, un certo Stimpalos, ma solo in seguito Etel ha capito che il quadro che lui stava facendo non era un semplice suo ritratto, ma era un ritratto di Valentiniano, cioè dell'imperatore Valentiniano III, che sottomette e incivilisce i barbari come lui. Ecco, gli intrighi di corte comunque sono prevalenti nella corte, diciamo, dell'impero romano d'Occidente, così come vedremo anche in quella dell'impero romano d'Oriente. Ad esempio, i rapporti straconiugali, come quello che ha Galla Placidia, l'imperatrice, con Bonifacio, generale suo amante, che poi però viene ucciso da Ezio. Ezio, tra l'altro, è questo grandissimo generale, conosce la lingua degli Unni, essendo stato preso in ostaggio per tre anni. È davvero l'ultimo vero generale dell'impero romano, probabilmente la sua morte segnerà anche la fine dell'impero romano stesso. Dicevamo che anche la corte dell'impero d'Oriente è una corte corrotta. Ad esempio, l'imperatore Teodosio II ama più il suo casino di caccia che non gli affari politici e militari. Molto intricati, appunto, gli intrighi di corte a Costantinopoli. Ad esempio, Crisafio, che è un personaggio emblematico di quella corte, l'Eunuco di corte, convince, ed eco, a uccidere Attila, con Vigilio, suo serbo, che fa anche la interprete, promettendogli un lauto compenso. Poi, però, ed eco, che era un unno, dice tutto, rivela tutto ad Attila, e così poi il principe Eslam, che viene alla corte di Costantinopoli, inviato dagli Unni, e chiede soddisfazione all'imperatore Teodosio II, un ricco premio in oro. Onoria, intanto, era stata confinata in Oriente, anche per cercare di tacere, dicevamo, di questo suo figlio che aveva avuto da Etel Attila. Ecco, Etel Attila. Perché due nomi? Forse questi due nomi stanno proprio a indicarci la doppia natura di Attila, Attila Etel, quindi, per come lo conoscono in molte regioni dell'est europeo, è un grandissimo capo, e infatti nel cantare dei Nibelunghi, Attila è denominato Etzel, ed è anche il secondo marito di Crimilde. Mentre invece, in Occidente, Attila rappresenta il furore barbaro e selvaggio, quindi il nome Attila fa venire in mente questo, in particolar modo, a noi. Il romanzo storico di Attila, ho scoperto tante cose, ad esempio proprio sul Crisafio, sul tentativo di omicidio di Attila, che non conoscevo assolutamente. Certo, ci sono anche delle parti inventate, o delle parti storiche dubbi, ad esempio l'uccisione di Bleda da parte di Etel Attila, non mi sembra che sia storicamente accertata, o il figlio avuto da Onorio. Certamente, di storico, c'è la figura di Papaglione Magno e della Chiesa. Nella decadenza generale, dicevamo, dell'impero romano d'Oriente e di Occidente, la Chiesa assume un ruolo particolare, un ruolo di un'autorità riconosciuta e di un'autorità effettiva, nella mancanza di quello che invece l'autorità ha sulla carta. Però non voglio rovinarvi il gusto della lettura di questo libro, e quindi non vi dico tutto sul finale di questo libro, anche se temo che, essendo fatti storici questi piuttosto conosciuti, probabilmente voi già qualcosa sappiate. Grazie.